e ben a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qui con i calciatori e le sue prime carte e le sue prime carte appunto su fifa e il famoso videogioco di calcio allora è detto questo prima iniziare vi invito a lasciare like e scrivo al canale se ancora non l'avete fatto e detto questo appunto iniziamo subito con primo giocatore primo giocatore di questo video è garret bale e giocatore che apparso su fifa nel fifa 09 con un overall di 76 e direi che strada ne ha fatta abbastanza perché in fifa 19 e versione attuale a un overall di 88 e quindi ha subito un upgrade di più 12 bella carta secondo il giocatore del video e marco royce giocatore che apparso anche in copertina nei scorsi fifa e ha fatto la sua prima apparenza in fifa in fifa sempre in fifa 09 con un overall di 67 e attualmente e fifa 19 a un overall di 85 e quindi ha fatto un upgrade di più 18 complimenti anche a lui terzo giocatore di giornata è un giocatore molto giovane ma che può diventare un futuro campione e sto parlando proprio di kilian bappe giocatore che apparso pochi fifa fa ovvero fifa 17 con un overall di 71 quando era al monaco e attualmente in fifa 19 al princess man ha un overall di 87 la sua carta base non considerando le numerose altre carte che ha e ha subito un upgrade di più 16 poi abbiamo paul pogba giocatore che apparso in fifa nel fifa 12 con un overall di 55 davvero molto basso e attualmente in fifa 19 ha un overall di 88 con un upgrade di 33 33 non si scherza e complimenti anche a lui per la sua strepitossa crescita e poi abbiamo altri altri molti altri giocatori in questo video aveva inizialmente un overall non bassissimo oppure un overall di 76 attualmente ha un overall di 89 e il suo upgrade è stato di più 13 rispetto alla prima carta poi e abbiamo altro giocatore non differente ovvero lionel messi è apparso in fifa 09 come altri altri molti altri giocatori in questo video aveva inizialmente un overall non bassissimo ovvero 91 e attualmente in fifa 19 ha come overall 94 quindi ha subito un upgrade solamente più 3 ma già da 91 al 94 ha fatto anche in questo caso un buon progresso poi abbiamo paolo di bala giocatore apparso in fifa 13 e con un overall di 73 e in fifa 19 attualmente a un overall di 89 e ha fatto un upgrade di più 16 e poi abbiamo kevin de bruyne giocatore apparso in fifa 09 con overall anche lui basso di 64 e attualmente a un overall di 91 di 91 con un upgrade di più 27 e per l'ultimo giocatore di video e denazard giocatore molto forte del celsi è apparso in fifa 09 con overall di 78 e attualmente in fifa 19 ha un overall di 91 e ha fatto un upgrade di più 13 ultimo giocatore manopera importanza e cristiano ronaldo cristiano ronaldo apparso in fifa 09 e lui con due di overall più in più di messi apparso con 93 e in fifa 09 attualmente a 94 la sua carta base e non considerando la carta toti che a 99 e quindi il suo upgrade è stato di solamente uno nonostante abbia viaggiato in questi anni sopra il 90 e questo era un appunto i calciatori e le loro prime carte su fifa e quelle attuali e se ne volete volete scoprire altri calciatori le sue prime carte vi invito a lasciare like a iscrivervi al canale se ancora avete fatto noi ci vediamo un prossimo video e ciao